A bordo della stazione spaziale internazionale, Giorgio Pacifici. È importantissimo il lavoro di squadra, non solo l'equipaggio a bordo, ma quella a terra che ci ha permesso, ci ha messo nelle condizioni di effettuare variati record di utilizzazioni. È stato in pericolo di vita per problemi al casco nella prima missione, ma nella seconda, Bion, oltre, Luca Parmitano è diventato il comandante della stazione orbitante. Il Premier Conte si è collegato con lui oggi da Palazzo Chigi, sottolineando come spazio e ricerca siano settori strategici del nostro paese. L'eccellenza italiana è stata confermata dalle parole dell'astronauta, che ha mandato un messaggio di speranza ai giovani. Nel mio messaggio voglio sempre parlare di speranza, darla ai giovani soprattutto, a chi oggi è in età scolastica, a chi sta studiando all'università, che esiste la possibilità di guardare avanti e di porsi davanti dei progetti e degli obiettivi da raggiungere. La missione terminerà agli inizi di febbraio, ma prima Parmitano si avventurerà per un'altra volta ancora fuori dai moduli abitativi, con l'obiettivo di terminare la riparazione in esterno del cacciatore di antimateria AMS, per rivelare il volto nascosto dell'universo.